450 metri cubi al giorno di rifiuti ingombranti raccolti e portati negli impianti di smaltimento. È lavoro da venerdì a Campi Bisenzio in Toscana il team di Etra specializzato nella raccolta del materiale reso inservibile dall'alluvione che inizio novembre ha messo in ginocchio questo territorio. Dopo gli interventi in Romagna dello scorso giugno, eccoci ancora a disposizione dei territori piegati dalle forti piogge dalle sondazioni dei fiumi nell'area di Firenze, spiega il presidente di Etra, Flavio Frasson. Al lavoro mezzi speciali dotati di un cassone da 35 metri cubi ciascuno, di un braccio meccanico per la sua movimentazione, di una gru e di un mezzo di supporto. Sul posto stanno operando tre addetti che si alternano anche con turni notturni.